Oh Pattagarrosa, hai visto? Questa viene da Saffattirella, questa qua, guarda qua, tutte le letterine esagerate, è collegato, buonasera, tutte le letterine di San Valentino, delle mie tazzate ammiratrici, guardi che San Valentino è dopo domani, scusi, a voi, da noi arriva prima, come prima? E deve fare un sacco di strada, ma cosa sta dicendo? Arriva da voi, si riposa nel golfo di Coghina, e poi arriva da voi, ma è una ricorrenza San Valentino, è una ricorrenza, ma ricorre prima, già il nome lo dice, ricorrenza, è sicuro di questa cosa, scusi? Assolutamente no, sono tutte le sue ammiratrici, quindi che le mandano questi omaggi, queste letterine, assolutamente no anche questo, scrive il nonno, per passare il tempo, hai le firma con vari nomi, non mi scrive nessuno, No, Nicola, lo faccia così Ma fa niente, lasciamo perdere Appunto, ci sono cose belle nella vita, per esempio il Cagliari Ma no, è una festa per tutti, volevo dirvi un dolce tipico che faccio a noi, è un dolcetto piccolino con dentro un bigliettino Ah, i baci perugina No, no, i cazzotti perugina Ma cosa sta dicendo? Dei cazzottini veri, affettuosi, con dentro un bigliettino Ma non ci crediamo Stanno scrivendo loro, vedi? Chissà che bello Parliamo di calcio, così ci divertiamo un po' Sì Anche ieri quattro gol ne ha presi E sono quattro partite che prende quattro gol È un numero che ci perseguita Quattro mori Certo Di quattro vizi capitali No, guardi, non sono quattro vizi capitali C'è anche il film Seven Eh, da voi, da noi sono quattro Come quattro? Ma cosa sta dicendo? Anche il film da noi, srappio Cosa vuol dire? Cinque Perché ci ha tolto uno nel montaggio, l'ha tagliato Vabbè, senta, amico Ma voi come si chiama quell'attore lì, bravissimo? Brent Pitt Eh, da noi Brent Patagarro E chi è? Brent Patagarro Un Marcantonio di uomo Sì Una roba 1.51 Ma come? Esagerato E' enorme Ah, beh, chi sa che fisica c'è Ne ha fatto altri film, noi Ah, sì? Ecco, i vostri Non so, c'è Porcaoltas 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 Ha fatto anche la versione un po' art No, no, porca troia Con Nanneda che c'ha due robe Esageratissime Non vogliamo sapere di questo film Lasci stare Nanneda Ma cosa succede? Ma che animale è? Il pianoforte? La lodole La lodole La lodole, nonno La lodole Sono morte? No, no, sono innamoratissime Oh, che bello Finalmente Sono posate sul ramo qua fuori Chiudiamo con una bella notizia Il maschio e la femmina Si sono avvicinate Che carini Tubavano, si toccavano col beco Verso il Valentino, certo Un fulmine accensereno Sè che tutto è duro Porca di quella troia No Buon appetito On